Perché a un certo punto della sua vita ha sentito il bisogno, la necessità di fondare lo Zen Hospice? Ho un retroterra molto forte nel buddismo Zen e nel buddismo Zen viene coltivata particolarmente la consapevolezza dell'impermanenza. Io ho pensato che poteva essere un buon modo per mettere insieme il desiderio delle persone di essere ascoltate e la situazione che accadeva. Abbiamo cominciato lavorando con persone che erano con i senza tetto, persone che vivevano per strada e se potevo essere di qualunque aiuto per queste persone doveva essere assolutamente chiaro e avere intenzioni assolutamente oneste. Quali principi ha cercato di applicare in questa sua esperienza, soprattutto nell'accompagnamento dei malati terminali? Penso che il morire sia molto più che un evento medico. Io penso che il morire sia molto più che un evento medico e quindi penso che invece il morire sia molto più una questione di relazione, di relazione con noi, con gli altri, con Dio, con qualunque idea noi si abbia di una qualche bontà fondamentale dell'universo. Quindi abbiamo la necessità di portare tutto il meglio che la medicina può offrire, ma dobbiamo anche riconoscere l'importanza della relazione nel momento del morire. Quali consigli si sente di dare alle persone che si trovano ad accompagnare una persona che sta andando verso la morte, che siano professionisti o anche solo dei parenti, degli amici? Penso che sia importante riflettere e pensare alla nostra relazione con la nostra morte. Ed è una scommessa assurda pensare che al momento della morte avremo la forza del corpo, la chiarezza della mente e la stabilità emotiva per fare proprio in quel momento il lavoro che non è stato fatto durante tutta la vita. E quindi è un'indagine che dobbiamo fare adesso, dobbiamo farla in questo momento, dobbiamo capire qual è la nostra relazione con la morte prima di trovarsi davanti ad essa. E solo in questo modo potremo essere d'aiuto agli altri e potremo accompagnarli senza un sovraccarico inutile di paura e di fatica. Quindi dobbiamo anzitutto prepararci alla nostra morte. Spesso la morte è un pensiero che allontaniamo, rimandiamo nel tempo. Invece dovremmo cominciare a prendere consapevolezza che prima o poi anche noi siamo destinati a morire. E' molto interessante che anche se noi sappiamo che questa esperienza accade a tutti e la vediamo accadere agli altri, in qualche modo pensiamo che non debba accadere a noi. E' abbastanza naturale avere paura della morte, ma c'è anche questa sorta di superstizione che ci fa pensare che se pensiamo alla morte in qualche modo la invitiamo, in qualche modo ci potrà accadere e riguardare anche noi. Ma non possiamo semplicemente goderci il tramonto ogni sera e vivere fino al giorno dopo. Ogni cosa va e viene, il senso della vita è come vanno le cose. E avere consapevolezza di questo fatto ci può portare gioia e libertà e non tristezza. Grazie.